C'è Mario Di Lorenzo? Sono un autore che è scritto da oltre 18 anni per i cantetti di Apollo 12. Ho scritto per il Festival di Napoli su Rete4. Ho partecipato con la mente del lavoro. In questo momento sto scrivendo anche per Gia Luca che è uscito dal nuovo lavoro discografico. Noi ho un'namorato, non mi fatti cosa che ti fa soffrire. Egoista e prepotente, tu non mi non sai più niente. Mi sono fatto in due per scrivere le canzioni a Gigi. È una persona che merita la mia stima perché nel suo lavoro scrive bene le canzoni e ha partecipato in tanti dischi. E sta cercando di partecipare anche nel mio nuovo lavoro discografico. Io mando un bacio a Mario Di Lorenzo e chiamatelo perché fa belle cose in questi dischi. Ciao, un bacio da lei.